Questo video è stato prodotto da El Vega, Riccardo Zigarini, Nick Seiri, Giovanni Lanzoni, Matteo Bosi, Elia Morini e Luca Gemignani. Illustrazione di Lorenzo Bisogni. Tema musicale di Zero. Capitolo ventitreesimo. Momenti di passione. Stavano parlando sulla soglia della camera di Vesper. Quando il proprietario se ne andò, Bond spinse la ragazza nella stanza, chiuse la porta, le mise le mani sulle spalle e la baciò sulle gote. È il paradiso, disse. Gli occhi di Vesper brillavano. Le sue mani si posarono sugli avambracci di Bond. Lui le si avvicinò e le strinse la vita. La testa di Vesper si piegò all'indietro e la sua bocca si socchiuse sotto quella di Bond. Cara, sussurrò 007. Appoggiò con più forza la sua bocca contro quella di Vesper, forzando con la lingua lo scrigno dei suoi denti. La lingua della ragazza cominciò a muoversi, dapprima timidamente e poi appassionatamente. Bond fece scivolare le mani sulle cosce rotonde di lei, le strinse con forza. Ansimando, Vesper scostò la sua bocca. Rimasero allacciati, mentre la guancia di Bond accarezzava quella della ragazza e lui sentiva i suoi seni sodi contro il suo petto. Allora Bond afferrò i capelli della ragazza e le fece di nuovo piegare la testa all'indietro per poterla ancora baciare. Lei lo respinse e cadde sfinita sul letto. Per un attimo si guardarono pieni di desiderio. «Scusami, Vesper, non avevo l'intenzione di... Adesso...» Si sedette vicino a lei. Si guardarono lungamente, con tenerezza, mentre nelle loro vene si riaccendeva il fuoco della passione. Vesper si curvò per baciare Bond sull'angolo del labbro, poi gli scostò dalla fronte sudata il ciuffo nero dei capelli. «Caro», disse, «dammi una sigaretta. Non so più dove ho messo la borsetta». Bond accese una sigaretta e gliela mise tra le labbra. Ella aspirò a pieni polmoni una boccata di fumo. Bond fece per abbracciarla, ma Vesper si alzò e andò alla finestra. Rimase là, voltandogli le spalle. Bond guardò le mani di Vesper e vide che tremavano ancora. «Avrò bisogno di un po' di tempo per prepararmi prima di cena. Disse Vesper senza voltarsi. Perché non vai a fare una nuotata? Penserò io a mettere a posto la tua roba». Bond si alzò dal letto, le si avvicinò, la abbracciò e prese i suoi seni tra le mani. Sentì i capezzoli rigidirsi sotto le sue carezze. Vesper mise le sue mani su quelle di Bond e le strinse contro di sé, ma continuò a guardare fuori. «Non ora», sussurrò. Bond si curvò e carezzò con le labbra la nuca della ragazza. Se la tenne stretta contro ancora per un attimo e poi la lasciò andare. «Va bene, Vesper», disse. Andò alla porta e si voltò. Vesper non si era mossa, senza sapere perché pensò che la ragazza stesse piangendo. Fece un passo verso di lei e allora si rese conto che in quel momento non avevano nulla da dirsi. «Amore mio», sussurrò. Poi uscì e chiusa la porta dietro di sé. Andò in camera sua e si sedette sul letto. Si sentiva ancora sconvolto dalla passione che aveva percorso tutto il suo corpo. Era combattuto tra il desiderio di stendersi sul letto e quello di andarsi a rinfrescare con una nuotata. Esitò per un attimo e alla fine si decise. Si alzò e prese dalla valigia un paio di calzoncini da bagno bianchi e un pigiama azzurro scuro. Bond aveva sempre detestato i pigiama. Aveva dormito nudo fino al giorno in cui a Hong Kong, alla fine della guerra, aveva scoperto un compromesso perfetto. Era una giacca da pigiama che gli arrivava fin quasi alle ginocchia. Non aveva bottoni ma semplicemente una larga cintura attorno alla vita. Le maniche, larghe e corte, finivano all'altezza del gomito. Era fresco, comodo e ora aveva il vantaggio supplementare, quando lo infilava sul costume da bagno, di nascondere tutte le cicatrici, ad eccezione dei segni bianchi attorno ai polsi e alle caviglie e del marchio della smerche sulla mano destra. Mise un paio di sandali di cuoio azzurro cupo, scese le scale, uscì dalla casa e attraversò la terrazza. Passando sulla spiaggia davanti alla casa, egli pensò a vesper ma si trattenne dal voltarsi per guardare se lei era ancora alla finestra. Camminò lungo la riva sulla sabbia pulita e compatta finché l'albergo scomparve alla sua vista. Allora si tolse la giacca del pigiama, prese la rincorsa e si tuffò rapidamente nel mare appena increspato. La riva digradava subito, Bond rimase sott'acqua più a lungo che poté, nuotando vigorosamente e godendo della frescura dell'acqua. Poi riemerse e si scostò i capelli dagli occhi. Erano quasi le sette e il sole non riscaldava quasi più. Tra poco sarebbe scomparso al di là della baia, ma in quel momento Bond l'aveva negli occhi. Si mise sul dorso e nuotò all'indietro, cercando di godere il più possibile gli ultimi raggi. Quando raggiunse la riva, a più di un chilometro di distanza, l'ombra aveva già raggiunto il suo pigiama, ma Bond sapeva che avrebbe avuto il tempo di distendersi sulla sabbia ruvida e di asciugarsi prima di essere raggiunto dal crepuscolo. Si tolse il costume da bagno e si esaminò il corpo. Le tracce delle sue ferite erano quasi scomparse. Scrollò le spalle e distese le braccia in croce, guardando il cielo senza nubi e pensando a Vesper. Quello che provava per lei era un sentimento impreciso e questa incertezza lo infastidiva. Eppure, tutto era cominciato così normalmente. Bond aveva l'intenzione di fare all'amore con lei non appena avesse potuto, perché la desiderava. E anche doveva riconoscerlo, perché voleva sottomettere a un'ultima prova il ristabilimento della sua salute e delle sue forze virili. Pensava che sarebbero andati a letto assieme per qualche tempo e poi che di tanto in tanto lo avrebbero continuato a fare anche a Londra. Poi ci sarebbe stata l'inevitabile rottura, facilitata anche dalle rispettive posizioni occupate nel servizio segreto. E se la cosa avesse presentato delle difficoltà, Bond non avrebbe fatto altro che farsi assegnare una missione all'estero o forse anche, come aveva sempre pensato di fare, dare le dimissioni e partire per un viaggio attorno al mondo. Ma, in un certo qual modo, sentiva che Vesper gli era entrata nel sangue e che nelle ultime due settimane i suoi sentimenti riguardo alla ragazza si erano a poco a poco trasformati. Trovava la sua compagnia gradevole e serena. In lei era qualcosa di misterioso che costituiva uno stimolo costante. Ella rivelava ben poco della sua vera personalità ed egli sentiva che se anche fossero rimasti assieme per molto tempo, in lei sarebbe rimasto sempre come un giardino segreto nel quale non avrebbe mai potuto entrare. Vesper era premurosa e devota, senza essere ossequiosa e senza compromettere la sua indipendenza, e ora Bond sapeva che anche lei era profondamente sensuale e facile all'emozione, ma che la conquista del suo corpo avrebbe avuto ogni volta il delizioso sapore di una violenza. Amarla fisicamente sarebbe stato ogni volta un viaggio eccitante, senza la delusione dell'arrivo. «Ella si sarebbe data avidamente», pensava Bond, «avrebbe goduto di tutti i piaceri che l'intimità del letto presuppone, ma non si sarebbe mai lasciata possedere». Bond, steso nudo sulla sabbia, cercava di cacciare dalla sua mente le conclusioni che leggeva nel cielo, girò la testa verso la spiaggia e vide che l'ombra del promontorio stava per raggiungerlo. Si alzò e si scrollò di dosso la sabbia. Decise di fare un bagno non appena ritornato in albergo. Raccolse distrattamente il costume da bagno e tornò sui suoi passi. Fu soltanto quando arrivò nel punto dove aveva lasciato la giacca del pigiama, che si accorse di essere ancora nudo. Senza preoccuparsi del costume da bagno, Bond indossò la giacca e continuò a camminare verso l'albergo. In quel momento, aveva ormai preso la sua decisione. Capitolo ventiquattresimo Fruits défendus Quando rientrò, fu piacevolmente sorpreso di trovare tutta la sua roba in ordine e nel bagno il suo spazzolino da denti e il rasoio e gli altri accessori ben sistemati da un lato della mensolina di vetro sopra il lavabo. Dall'altro lato c'era lo spazzolino da denti di Vesper, un paio di boccette e un barattolo di crema per il viso. Diede un'occhiata alle boccette e si accorse che una conteneva compresse di sonnifero. Gli avvenimenti dei giorni prima avevano forse scosso i nervi di Vesper molto più di quanto egli avesse immaginato. La vasca era pronta e su una sedia c'erano un asciugamano e un flacone di essenza di pino per il bagno. Vesper? Sì? È veramente il colmo. Ho l'impressione di essere un vagheggino spendaccione. Mi hanno detto di prendermi cura di te non faccio altro che il mio dovere. Cara, il bagno è delizioso. Vuoi sposarmi? Hai bisogno di una schiava non di una moglie. Ti desidero. Io invece desidero la mia aragosta e il mio champagne. Sbrigati. D'accordo, d'accordo. Disse Bond. Dopo essersi asciugato indossò una camicia bianca e un paio di pantaloni azzurro cupo. Sperava che Vesper si sarebbe vestita altrettanto semplicemente. Quando la ragazza apparve sulla soglia della porta Bond fu lieto di vederla con un camiciotto di tela azzurra che cedeva al confronto del colore dei suoi occhi e con una gonna pieghettata di cotone color rosso scuro. Non potevo più aspettare. La mia camera è proprio sopra la cucina e sono stata torturata da certi profumi deliziosi. Bond le andò vicino e la strinse alla vita. Vesper lo prese per la mano e insieme scesero le scale fino alla terrazza illuminata soltanto dalla luce della sala da pranzo vuota dove era stato preparato il loro tavolo. Lo champagne che Bond aveva ordinato a loro arrivo attendeva in un secchiello pieno di ghiaccio. Bond riempì due bicchieri. Vesper preferì rivolgere subito la sua attenzione a un delizioso patè di fegato. Bevvero guardandosi negli occhi e Bond riempì di nuovo i bicchieri fino all'urlo. Mentre mangiava Bond le raccontò della sua meravigliosa nuotata e fece dei progetti per il giorno dopo. Durante il pasto non fecero alcuna allusione ai loro sentimenti reciproci ma la prospettiva della prossima notte accendeva nei loro occhi una luce di desiderio e i loro piedi si sfioravano di tanto in tanto come per attenuare la tensione dei loro corpi. La ragosta apparve e scomparve. La prima bottiglia di champagne ormai vuota fu sostituita con un'altra. Davanti a una coppa di fragole di bosco alla crema Vesper lasciò sfuggire un sospiro di soddisfazione. Ah mi comporto come un maialino disse allegramente mi stai viziando troppo non ci sono abituata guardò la baia illuminata dalla luna alla parte opposta della terrazza vorrei potermi meritare tutto questo nella sua voce vera una sfumatura dolorosa che cosa intendi dire? chiese Bond stupito. Oh non lo so suppongo che la gente abbia ciò che si merita e quindi può darsi che io meriti quello che ho rivolse un sorriso a Bond il suo sguardo era leggermente ironico in realtà non sai molto sul mio conto disse improvvisamente Bond fu stupito dal tono serio della sua voce ne so quanto basta disse ridendo tutto quello che ho bisogno di sapere fino a domani fino a dopodomani e al giorno seguente d'altronde anche tu sai ben poco di me riempì i bicchieri Vesper lo guardò pensierosa gli uomini sono come delle isole disse non si toccano mai per quanto possano essere vicini l'uno all'altro sono sempre separati anche se sono sposati da 50 anni Bond pensò con terrore che Vesper doveva avere il ventriste lo champagne doveva averla resa malinconica ma ad un tratto Vesper scoppiò in un'allegra risata non fare quella faccia si chinò in avanti e posò la sua mano su quella di Bond stavo solo diventando un po' sentimentale comunque la mia isola questa sera si sente vicinissima alla tua e beve un sorso di champagne Bond rise e sollevato perché non ci riuniamo per formare una penisola chiese facciamolo subito non appena avremo finito le fragole no disse Vesper arricciando il naso voglio anche il caffè e il cognac aggiunse Bond la piccola nuvola la seconda era passata anche questa nuvola lasciava in sospeso un piccolo interrogativo ma il calore della loro intimità ormai ristabilita lo fece ben presto sparire quando ebbero finito il caffè e mentre Bond sorseggiava il suo cognac Vesper si alzò prese la borsetta e si fermò in piedi dietro al suo compagno sono stanca disse posando una mano sulla spalla di Bond restarono un attimo così senza muoversi poi ella si curvò sfiorò con le labbra e i capelli di Bond e subito dopo se ne andò qualche secondo più tardi la luce della sua camera si accendeva Bond aspettò pazientemente che la luce si spegnesse poi si alzò a sua volta si fermò un attimo per salutare i proprietari e per congratularsi con loro per la cena e salì le scale erano solo le nove e mezzo quando entrò dal bagno nella camera di Vesper e chiuse la porta alle sue spalle il chiaro di luna filtrava attraverso le persiane socchiuse sfiorò le ombre segrete dei corpi bianchi stesi sul grande letto Bond si risvegliò nella sua camera all'alba e rimase un momento disteso per concentrare i suoi ricordi poi si alzò silenziosamente indossò la giacca del pigiama passò davanti alla porta di Vesper e uscì dall'albergo per andare in spiaggia il mare era calmo e liscio e il sole si stava alzando faceva fresco ma Bond si tolse la giacca del pigiama e tutto nudo camminò sulla sabbia fino al luogo dove aveva fatto il bagno la sera prima lentamente e deliberatamente entrò nell'acqua finché non fu immerso fino al mento poi alzò i piedi e si lasciò affondare l'acqua fredda che gli sfiorava il corpo e gli scompigliava i capelli lo fecerà brevidire lo specchio della baia era perfettamente liscio sotto l'acqua Bond si immaginava una scenetta divertente con Vesper che usciva dalla pineta e lo vedeva improvvisamente emergere dal fondo dell'acqua quando un buon minuto più tardi Bond tornò a galla tra un turbineo di acqua e di schiuma rimase deluso sulla spiaggia non c'era nessuno nuotò per un po' poi si lasciò andare alla deriva quando il sole fu più caldo tornò sulla spiaggia si stese sul dorso godendo nel pensiero del corpo di Vesper come la sera precedente egli scrutò il cielo senza nubi e vi lesse la stessa risposta dopo qualche minuto si alzò e tornò lentamente lungo la spiaggia per prendere il pigiama avrebbe chiesto a Vesper di sposarlo ne era sicuro si trattava soltanto di scegliere il momento adatto capitolo 25 il copriocchio nero stava passando sulla terrazza per entrare nella semi-oscurità della sala da pranzo le persiane erano ancora chiuse quando vide con stupore Vesper uscire dalla cabina telefonica a vetri vicina alla porta d'ingresso e risalire senza far rumore le scale che portavano alle loro stanze Vesper chiamò pensando che la ragazza aveva forse ricevuto una comunicazione urgente che poteva riguardarli entrambi Vesper si voltò di scatto e portò una mano alla bocca per un attimo più lungo di quanto non fosse necessario lei lo fissò con gli occhi sbarrati che cosa c'è cara? chiese Bond leggermente turbato e timoroso che un nuovo incidente venisse a sconvolgere la loro felicità oh disse Vesper col fiato mozzo mi hai mi hai fatto paura era solo ho telefonato a Matisse a Matisse perché volevo sapere se mi poteva procurare un altro vestito sai bene tramite la mia amica Vendeuse te ne ho parlato ricordi vedi parlava in fretta il suo discorso era confuso pur cercando di essere persuasivo vedi non ho proprio più nulla da mettermi pensavo di riuscire a trovarlo a casa prima che andasse in ufficio non ho il numero di telefono della mia amica e pensavo di farti una sorpresa non volevo svegliarti e l'acqua com'è? hai fatto il bagno? come mai non mi hai aspettato? l'acqua è meravigliosa disse Bond decidendo di tranquillizzarla anche se era infastidito dal suo evidente stato di colpa e dalle scuse infantili sbrigati a fare il bagno e poi raggiungimi sulla terrazza muoio di fame mi spiace averti fatto paura non mi aspettavo proprio di vedere qualcuno in giro a quest'ora le mise un braccio attorno alle spalle ma lei si liberò e riprese a salire le scale è stata una tale sorpresa vederti continuò Vesper tentando di minimizzare l'incidente e di prenderlo alla leggera avevi l'aria di un fantasma di un annegato con i capelli sugli occhi a quel modo? fece una risatina che suonò falsa accorgendosene cercò subito di mascherarla con un colpo di tosse spero di non aver preso freddo disse cercava di mantenere in piedi la sua impalcatura di bugie Bond aveva voglia di sculacciarla di ordinarle di smettere e di dirgli la verità ma non ne fece nulla e si accontentò di darle un colpetto rassicurante sulla spalla e di raccomandarle ancora una volta di fare presto poi entrò a sua volta in camera sua fu la fine dell'integrità del loro amore i giorni successivi furono un susseguirsi di falsità e di ipocrisie di lacrime e di attimi di passione animale alla quale lei si abbandonava con un'avidità che la loro mancanza di sincerità nel corso della giornata rendeva imbarazzante a più riprese Bond cercò di abbattere le pareti di quel terribile malinteso continuava a riportare la conversazione sull'episodio della telefonata ma Vesper si aggrappava ostinatamente alla sua prima versione arricchendola di particolari che Bond ne era certo aveva inventato solo in seguito arrivò perfino a pretendere che Bond la sospettasse di avere un amante queste scenate terminavano invariabilmente in fiumi di lacrime e in crisi che rasentavano l'isterismo ogni giorno l'atmosfera si faceva sempre più insopportabile a Bond sembrava inconcepibile che i rapporti tra due esseri umani potessero dissolversi in quel modo da un momento all'altro e si rompeva la testa alla ricerca di una spiegazione sentiva che anche Vesper era disperata per la situazione e che in ogni caso ella soffriva molto più di lui ma il mistero di quella telefonata che Vesper si rifiutava decisamente e quasi con terrore di spiegare gettava sui loro rapporti un'ombra che si faceva sempre più densa a mano a mano che altri piccoli misteri e altre reticenze si andavano accumulando le cose peggiorarono ancora quello stesso giorno dopo una colazione che era costata fatica sia all'uno sia all'altra Vesper aveva preso a pretesto un'emicrania per poter rimanere in camera sua a riparo dal sole Bond se n'era andato a passeggiare lungo la spiaggia a ritorno aveva deciso che il problema doveva essere messo subito in chiaro appena seduti a tavola per il pranzo Bond si scusò allegramente di averla spaventata quella mattina stessa vicino alla cabina del telefono poi cambiò argomento e si mise a descriverle quello che aveva visto durante la passeggiata ma Vesper era distratta e rispondeva a monosillabi giocherellava col cibo evitava lo sguardo di Bond e guardava dietro a lui con un'aria preoccupata alla fine Bond si stancò e a sua volta si rifugiò nel mutismo e nei suoi cupi pensieri improvvisamente Vesper si irrigidì la sua forchetta urtò contro il bordo del piatto e poi rotolò a terra Bond alzò lo sguardo la ragazza si era fatta pallidissima aveva il terrore dipinto sul viso e guardava al di sopra della spalla del suo compagno Bond si voltò e vide che un uomo si era appena seduto a un tavolo dall'altra parte della terrazza abbastanza lontano da loro sembrava una persona qualsiasi vestita forse un po' troppo severamente a prima vista Bond lo definì un uomo d'affari in viaggio sulla costa che era capitato lì per caso o grazie alle indicazioni della guida Michelin che cosa c'è cara? chiese Bond ansiosamente lo sguardo di Vesper non riusciva a staccarsi dallo sconosciuto è l'uomo della macchina disse con voce soffocata l'uomo che ci seguiva sono certa che è lui Bond voltò di nuovo la testa il padrone in piedi vicino al nuovo cliente stava discutendo il menu era una scena perfettamente normale che presto ebbe termine l'uomo parve rendersi conto di essere osservato alzò gli occhi e considerò per un istante la coppia senza apparente curiosità poi prese una borsa da una sedia vicino a lui ne tolse un giornale e si mise a leggerlo coi gomiti sulla tavola quando il nuovo venuto aveva voltato la testa dalla loro parte Bond si era accorto che portava un copriocchio nero non sostenuto da una benda ma fissato all'orbita come un monocolo per il resto il suo aspetto era quello di un onesto uomo piuttosto maturo con i capelli castani scuri pettinati all'indietro e Bond l'aveva notato mentre l'uomo parlava al padrone dei denti particolarmente grossi e bianchi Bond si rivolse a Vesper mia cara ha un aspetto del tutto innocuo sei certa che si tratta della stessa persona non possiamo pretendere che l'albergo sia riservato soltanto a noi il viso di Vesper era una maschera livida si era aggrappata al bordo del tavolo con tutte e due le mani Bond pensò che stesse per svenire e fu sul punto di alzarsi per andare ad aiutarla ma Vesper lo fermò con un gesto della mano prese un bicchiere di vino e ne beve una lunga sorsata poi posò il bicchiere e lo fissò con uno sguardo vuoto so che è la stessa persona Bond cercò di farla ragionare ma lei non gli prestò la minima attenzione dopo aver rivolto ancora un paio di occhiate stranamente rassegnate al di sopra della sua spalla Vesper disse che la sua emicrania era aumentata e che avrebbe preferito trascorrere il pomeriggio in camera si alzò e entrò nell'albergo senza voltarsi Bond voleva tranquillizzarla a ogni costo ordinò un caffè poi si alzò e si diresse con discrezione verso il retro dell'albergo c'era una Peugeot nera ma poteva essere tanto la berlina che li aveva seguiti quanto una tra le migliaia di vetture simili che circolavano sulle strade francesi diede una rapida occhiata all'interno ma non notò nulla di strano cercò di aprire il cofano ma non ci riuscì si accontentò di annotare il numero della targa che era di Parigi poi entrò rapidamente nel gabinetto vicino alla sala da pranzo fece funzionare lo scarico e tornò sulla terrazza lo sconosciuto che stava mangiando non alzò gli occhi dal piatto Bond si sedette sulla sedia lasciata libera da Vesper per poter sorvegliare l'altro tavolo qualche minuto dopo l'uomo chiese il conto pagò e se ne andò Bond sentì il rumore della Peugeot che faceva manovra e poi la udì a allontanarsi in direzione di Royale al padrone che era rimasto sulla terrazza Bond spiegò che Madame aveva sfortunatamente preso un leggero colpo di sole il patron espresse il suo rammarico e si dilungò sul pericolo del tempo nelle varie stagioni dell'anno come per caso Bond gli chiese se conoscesse il cliente che se n'era appena andato mi ricorda un amico che come lui ha perso un occhio portava lo stesso genere di copriocchio il padrone rispose che il cliente era uno straniero aveva elogiato la sua cucina e aveva promesso di ritornare doveva essere uno svizzero a giudicare dalla pronuncia viaggiatore di commercio orologi doveva essere terribile avere un occhio solo essere costretto a portare quella venda per tutto il giorno il padrone pensava comunque che alla lunga ci si doveva abituare in realtà deve essere terribile disse Bond anche voi del resto avete avuto una bella sfortuna continuò indicando la manica vuota dell'albergatore io invece me la sono cavata per un po' parlarono della guerra poi Bond si alzò me ne stavo dimenticando disse madame questa mattina presto ha fatto una telefonata che devo ancora pagarvi ha chiesto Parigi un numero di Elisee credo aggiunse ricordandosi che era il rione di Matisse grazie messie ma la comunicazione non è avvenuta ho parlato questa mattina con Royale l'ufficio mi ha detto che uno dei miei clienti aveva chiesto un numero a Parigi e non aveva avuto risposta l'ufficio voleva sapere se madame desiderava ripetere la chiamata mi spiace mi sono dimenticato di dirvelo messie stesso potrà informare madame comunque la centralinista parlava di un numero degli invalides di un numero di un numero di un numero di un numero